Partiamo da Pinus Village, questa c'è un po' di strada romana, un giretto di spiagge, spiagge e mare. Io l'ho fatta anche in sap questa, qui sono arrivato, partito da Pinus Village alla torre di Pia, qui ci sono qualche grotta, ce n'è qua sotto. Grazie a tutti. Bastardi, mi state facendo mangiare solo la sabbia, la silicosi e fate bene. Monta polvere è molto bella. A quest'ora, poi. Non è che tu non dà solda, non dà foto nel gruppo. Che polla. Ah. 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 eh? ok 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 io ho fatto questa qui a sinistra? sei sicuro Gigi? è vero ah sì vai avanti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info e io qui sono arrivato e poi si chiude la strada si a destra però poi se eravamo saliti su perché ho la strada per andare ci sono altri sentieri che ti portano a mare si a destra la strada Alla bello qua dove siete arrivati? nella strada che avete fatto voi ah si perciò siete passati un po' sulle le pietre di tutto la prova di mezz'ora un po' sulle niente da dire che brutto questo posto ma dove mi avete portato ma con tutti i posti belli che ci sono ombra un po' qua no? in sardegna proprio rimane un po' l'ombra un po' qua ma quell'acqua è tutta sporca cioè a me da fastidio da così il mare un po' che è il vomore infatti un po' un po' che è un po' che è un po' che è un po' è bello visto dove ti ho portato dove ti ho portato un po di paura vieni se non ti piace un po di paura un po di paura un po di paura un po di paura non so poi se faccio qui cade nel morbido tonio cade nel morbido va bene lasciamo quale scusa non so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.